Nuova Andrea Calcio e Centro Zenit di Andrea insieme per il sociale. Domenica 5 maggio, a partire dalle 9, presso il Centro Sport Village, ex Giulio Cesare di Via Canosa, si terrà il primo Trofeo Zenit, una manifestazione sportiva benefica a cui prenderanno parte diverse società del territorio, con piccoli atleti nati tra il 2007 e il 2008. Il ricavato della mattinata, composto dall'adesione delle società partecipanti e del contributo dei genitori e dei parenti che verranno a sostenere i propri ragazzi, sarà devoluto in beneficenza al Centro Zenit di Andrea a sostegno di tutte le attività. Noi siamo una realtà associativa, ormai ha il suo ventesimo anno di attività nel territorio di Andrea, non solo. Noi ci occupiamo in modo particolare, abbiamo un laboratorio teatrale e in più organizziamo per i ragazzi dei viaggi. I nostri viaggi sono un po' particolari, negli anni siamo stati in Kenya, nello Zanzibar, a Dubai, quest'anno andremo a Bangkok e quindi naturalmente questo tipo di iniziative con i proventi che verranno ricavati ci daranno la possibilità di aumentare l'offerta formativa e quindi di dare la possibilità a più ragazzi di poter fare queste attività. I costi di spostamenti vari sono tutto a carico del Centro perché noi come associazione di volontariato quando ci sibiamo non chiediamo mai nulla. Iniziativa della nuova Andrea Calcio che non sorprende da sempre la società di Vincenzo Carbutti è al fianco delle realtà locali dove il volontariato si fa protagonista per i più bisognosi. Non è la prima volta che la nuova Andrea si trova di fronte a questi progetti sociali anche perché noi con un nostro progetto interno che si chiama Un Calcio per Tutti andiamo a fare attività lì dove magari qualcuno evita di farla quindi diamo una mano a chi non ha la possibilità di permettersi una retta mensile con i più piccolini e quindi in questo senso sfondiamo una porta aperta collaborando col Centro Zenit che come diceva giustamente Antonello è una realtà ormai consolidata sul territorio e di cui noi sentiamo parlare tutti i giorni. Le realtà che abbiamo coinvolto che vengono da più parti dalla nostra provincia Bari, Batte e Foggia realtà che hanno subito accettato di partecipare quando hanno saputo che lo scopo di questo torneo era solo ed esclusivamente benefico.